Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube e bentornati in una di quelle che probabilmente è la review più attesa per quanto riguarda il reparto difensivo infatti oggi andiamo a parlare un po' di quella che è stata la mia esperienza con Ramos Tots e con Militao Flashback nella versione 90 magari qualcuno di voi ha fatto caso a quel Drogba, ha messo lì prima punta, non fateci caso semplicemente ho venduto Eusebio e in attesa di aprire i premi e di andare a decidere chi comprare ho piazzato Drogba così, in maniera diciamo molto molto esotica però senza perderci in chiacchiere direi che possiamo tranquillamente andare a parlare innanzitutto del capitano di Sergio Ramos, un giocatore che io ho amato alla follia sin dai tempi di FIFA 18 quando il Toti praticamente mi carriò ai playoff di Amsterdam, fortissimo all'epoca si era soliti fare lo switch quindi praticamente si partiva con lui difensore centrale poi lo si spostava invece in mediana, io personalmente mettevo poi tra i difensori dei Sali 88 e vi devo dire la verità che usando questo Militao, questo Ramos ho avuto un po' la sensazione di andare a utilizzare il Toti di FIFA 18 un giocatore assolutamente pazzesco, un giocatore che io veramente vi straconsiglio l'ho pagato anche un po' tantino perché poi è calato però raga tanta era la voglia di andarlo a provare quando è uscito la prima settimana che ho detto vabbè dai Amen facciamo questa cosa consapevole del rischio che andavo correndo e io ho anche avuto il 93 quindi la versione quella lì insomma flashback moment insomma quella roba là e addirittura lo utilizzavo terzino nonostante non fosse scattante come vari Samed eccetera eccetera era bello ingombrante e giocando d'anticipo anche sulla linea esterna della difesa mi trovavo bene quello lì lo trovavo però un po' imballato per quanto riguarda i campi di direzione questo qui raga invece per me è il difensore definitivo si muove alla velocità della luce con l'L2 ha un body type di quelli massicci ingombrante no quindi praticamente contrasti non ne perde una volta che si attacca all'uomo raga troverà sempre il modo per rubarla veramente credo che mi abbia perso forse mezzo contrasto in 60 partite fa dei recuperi incredibili soprattutto in scivolata ha una pulizia nel fare le scivolate veramente non commette quasi mai fallo agilissimo super reattivo in fase di impostazione con i piedi che c'ha è ottimo e raga questo qui mi ha anche salvato come potete vedere dalle statistiche una partita infatti ha segnato un gol al 120esimo di una partita molto tesa se non erro la 26esima quindi in WL questo weekend di sinistro con 3 di piede debole quindi questo qui è veramente un difensore polivalente a tutti gli effetti e se vi devo andare a fare quello che può essere un confronto magari con altri difensori eccetera eccetera io questo raga lo piazzo al primo posto della classifica dei difensori di quest'anno a seguire ci piazzo David Luiz e a seguire ci piazzo probabilmente uno tra Boateng e Militao questo ovviamente escludendo Virgil che fa uno sport a parte il Toti e il Tots e andando a fare questa sorta di classifica diciamo provvisoria introduciamo quello che è il tema successivo ovvero quello relativo a Militao perché le aspettative per questa carta erano veramente tante e devo dire la verità che non sono rimasto deluso ma mi aspettavo qualcosina in più perché Militao è perfetto così come Ramos per chi ha uno stile di difesa come il mio basato sugli anticipi e basato sull'aggressione il problema suo è che ha un body type particolare in quanto è alto in game ma non sufficientemente ingombrante secondo me e mi è capitato tante volte che andava a perdere non tanto i contrasti ma dei rimpalli veramente ambigui e in più appunto grazie tra virgolette in maniera negativa al suo body type spesso e volentieri era discontinuo nell'andare a fronteggiare gli avversari quindi una volta ti spostava l'avversario di turno e un'altra volta no e questo alla lunga l'ho trovato un po' poco soddisfacente e anzi una partita me la stava per condannare perché fa tanti interventi automatici raga ma forse anche troppi una partita ha fatto una cosa senza senso passaggio dall'esterno verso l'interno si è buttato di testa a pesce nella mia area di rigore l'ha allungata sul secondo palo dove è arrivato il messi avversario me lo ricordo proprio così ce l'ho davanti boom mi segna poi per carità è super aggressivo quindi anche lui quando si attacca all'avversario è veramente insomma fastidioso in fase di impostazione passaggi non ne sbaglia scivola bene con le le due eccetera 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 però se lo devo inserire in una classifica lo piazza ad un terzo posto al pari di un buatengo perché lì poi sta a voi decidere se avete uno stile di difesa un po' più passivo e quindi preferire un giocatore alla boatengo più spesso e ciotto in maniera tale che sposta sempre gli avversari oppure avere diciamo il compromesso di avere un giocatore un po' più gracilino che però sull'anticipo non vi sbaglia veramente quasi mai diciamo che se boh vi siete sbloccati con gli swap dei difensori che so maldini eccetera magari potete anche non farlo ma piuttosto se invece ve lo andate a pagare poco e volete andarla ad inserire potete farlo tranquillamente e secondo me questo è il sostituto naturale di Miranda infatti durante la VL tanti di voi mi hanno chiesto ma sto Militao o Miranda? no a quel punto io vi dico Militao anche per una questione di bridabilità è molto più versatile secondo me il buon Eder quindi diciamo che comparto difensori Ramos e Militao questa è stata la mia esperienza ma Ramos raga mi è entrato nel cuore anzi ho dimenticato di fare una cosa e ci tengo a farla con voi in diretta il capitano merita la fascia altro che mani il capitano subito è veramente un giocatore pazzesco quindi per quanto riguarda Ramos e Militao questa è la situazione poi ci tenevo a dirvi anche due paroline per quanto riguarda Coutinho l'SBC che è uscita ieri aspettate che ve lo becco al volo eccolo qui carta molto interessante perché ha 5-4 ha un buon work rate ha un body type di quelli interessanti ha statistiche di velocità messe al posto giusto e in più questo secondo me si busta anche bene ha un'ottima statistica di tiro sia per quanto riguarda finalizzazione che potenza passaggi impeccabili freddezza 82 per un tozzo del genere qua mi scatta un po' il campanello d'allarme però comunque considerando che è una SBC che si ha il suo costo secondo me ci può anche stare poi agilità, equilibrio e reattività sono sicuramente parametri eccezionali uniti al body type questo sicuramente è molto molto agile ruolo consigliato questo qui va secondo me può ricoprire un po' tutti quelli che sono i ruoli del reparto avanzato può fare la punta in un attacca a 2 può fare il CEC può fare il CS il CED l'esterno destro l'esterno sinistro insomma un po' in base a quello che è la vostra tra virgolette preferenza questo qui potete decidere di andarlo a utilizzare un po' dove vi pare insomma è nulla quindi diciamo che non è che ve lo consiglio perché fondamentalmente dipende da voi però è sicuramente un ottimo giocatore cioè se avete necessità vi piace potete inserire le squadre fatelo tranquillamente perché sto cutinio alla fine non è assolutamente malvagio quindi diciamo per questa review di due terzi brasiliana è tutto io vi saluto ragazzi vi do appuntamento su Twitch ogni giorno dalle 12 alle 16 e niente che dirvi un salutone peace e quindi vi saluto a tutti i giorni vi saluto a tutti i giorni vi saluto a tutti i giorni